Regolare la partenza di questa seconda batteria ed è Menegalgo in prima posizione per l'attesa la prova del Berlusco in seconda, ancora spasciata la prova di San Nazario, Midi ancora si è ricopertato tutti, sarà uno sprint per i ultimi centometri per i due questi in finale per Menegalgo in prima posizione all'esterno la prova del Berlusco quando è partita questa seconda semifinale, Midiato prenderà la prima posizione, sembra Gobacchio all'interno duello per la seconda e terza posizione all'esterno per Giotto, ma già in allungo va in prima posizione Giotto Manuel, se bisogna prendere lo Spinea che va adesso in terza posizione quindi ancora Giotto in prima posizione all'esterno, c'è il Passo, quindi si va a spingare adesso per Giotto qui in finale a tre tag e anche l'intenzione si va allo sprint per la finale del Gobacchio, per lo Spinea